Approvati la sorrisi e la medicina per non andare in psichiatria, in psicologia, in kinesiologia, in terapia dobbiamo sapere chi siamo noi prima di sapere chi è l'altro Grazie, grazie mille Artibano, avanti tutta Artibano, ti sei trovato bene? Mi sono trovato molto molto bene e fa due volte venne qui e tu lo sai che ormai mi conosco L'ipocrisia a me non mi va, sono contento di lasciare l'ambienza e quello che fanno per mangiare per il prezzo buonissimo ma pure buono quello che c'è dentro, è molto importante non vale la pena andare al ristorante che si paga non caro ma non è buono e c'è un ristorante che non è buono e paga caro Grazie Anche allora Bravo Dobbiamo sapere chi siamo noi prima di sapere chi è l'altro Grazie, grazie mille Artibano, avanti tutta Grazie a tutti